Può capitare di venire pizzicati mentre si corre troppo in autostrada o sulle provinciali e vedersi recapitare multe pesanti per aver superato i limiti di velocità, ma è decisamente più improbabile pensare di venire sanzionati mentre si è in sella o una bicicletta. Eppure è quanto successo da alcuni ciclisti che nella giornata di domenica hanno percorso l'alzaia del naviglio di Bereguardo a Motta Visconti, al confine tra le province di Milano e Pavia. Le foto di una delle multe, effettuata con il telelaser, sta già facendo il giro dei social. Questo percorso è infatti una ciclo pedonale, dove possono transitare biciclette e pedoni e il limite va dai 10 ai 15 km orari a seconda dei tratti. Nelle scorse settimane, spiega il sindaco di Motta Visconti, Primo De Giuli, diversi cittadini si erano lamentati per la presenza di ciclisti che passavano a forte velocità sull'alzaia, creando situazioni di pericolo, soprattutto per i bambini. Ecco allora che il primo cittadino ha disposto dei controlli lo scorso fine settimana, che hanno portato anche a delle sanzioni. L'idea non era quella di multare tutti i ciclisti, ha chiarito De Giuli, ma solo quelli più indisciplinati, che pensavano di potersi allenare o gareggiare, lì dove hanno il diritto di passeggiare anche le famiglie. Gli agenti della polizia locale, nella maggior parte dei casi, hanno semplicemente ricordato a chi era in sella una bici da corsa di rispettare i limiti di velocità. Non voleva essere un'azione repressiva, prosegue il sindaco, ma è servita a far capire a tanti ciclisti che ci sono regole da rispettare. Il prossimo weekend sono previsti nuovi controlli, fanno sapere dal comune di Motta Visconti. Gli amanti delle due ruote sono avvisati.